Abbiamo due colleghi che hanno chiesto di intervenire a titolo personale, ne hanno facoltà per non più di due minuti. L'articolo 2 del provvedimento in esame recita ipocritamente tagli ai costi della politica nelle regioni quando poi il comma C prevede espressamente l'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali. C'è un assegnino per consiglieri regionali come Fiorito, Maruccio, Penati che avete provveduto a finanziare e a dare copertura mettendo le mani nelle tasche degli italiani sin dal prossimo 17 dicembre rapinando gli italiani con l'odiosa IMU. Allora siete voi gli incantidabili di questo paese, voi che avete fatto delle leggi per la casta, è incantidabile il trio ABC che ha fatto le leggi Magna Italia, è incantidabile Alfano, è incantidabile Bersani, è incantidabile Casini perché voi siete i responsabili di questo disastro nostro paese. Onorevole Barbato, non le consento di usare questo linguaggio e le tolgo la parola. Onorevole Bernardini. Grazie Presidente, noi ieri abbiamo votato la fiducia al governo Monti.